Il format tv incentrato sui disturbi, sui nuovi malesseri che stanno consumando le nuove generazioni di questo nuovo millennio. Sin qui abbiamo trattato tematiche inerenti alla crescita dell'individuo con il dottor Poggini Pediatra, abbiamo parlato di bullismo con la ricerca dell'Università di Arezzo e con l'autoressa Ilaria Abidini, Cavaliere della Repubblica, e di dipendenze insieme al CERD di Arezzo. Quest'oggi siamo tornati, in una location che già avete visto nelle precedenti puntate, siamo tornati a parlare con Giorgi Morena, grazie per aver accettato nuovamente il nostro invito per continuare ciò che avevamo lasciato a metà nelle precedenti puntate, cioè il discorso legato all'ansia, agli attacchi di panico. Nelle puntate precedenti abbiamo parlato dell'associazione Dubodap che cerca con dei gruppi di lavoro, con dei gruppi di persone, di far una comunità, si può dire così, per riuscire a risolvere questi problemi. Ma io andrei oggi a Monti a parlare più dettagliatamente dell'ansia. Innanzitutto partirei con lo spiegare che cos'è l'ansia, cosa si definisce per ansia. Allora, l'ansia, come ho detto la volta scorsa, buongiorno a tutti, si tratta di uno stato d'animo, di una sensazione interna, di un disagio, un disturbo che crea una condizione interna, si chiama attacco e fuga, come se una persona fosse continuamente, perennemente in pericolo. Questo ne altera tutte le funzioni sia neurovegetative sia emotive e creando tutta una serie di disturbi che hanno a che fare appunto con il proprio interno emotivo, ma che poi si convertono anche con dei disturbi proprio fisici, con accelerazione del battito cardiaco, con sudorazione, con fame d'aria, la persona si sente soffocare con parestesie, con tutta una serie di disturbi che molto facilmente la persona riferisce o sovrappone a quello che può essere l'inizio di un attacco di cuore, di un attacco cardiaco. Quindi si crea poi una situazione interna che questo tipo di conferma o questo tipo di paura che possa essere tale ovviamente fa un circolo interno e crea quindi, innesca più ansia e quindi innesca più sintomi e quindi si sfoga poi in un attacco di panico proprio vero che porta poi a peggiorare la situazione. Ecco, quali possono essere le conseguenze, diciamo, che dipendono dall'attacco di panico? Per conseguenze che cosa intende? Diciamo quando si sfoga, quando arriva ai massimi livelli l'attacco di panico. Ah, quali possono essere i sintomi? Cioè dove possono arrivare i sintomi? Perché magari sono dei piccoli sintomi di quali, se messi insieme, poi vanno a sfogare in attacco di panico. Ma quando si capisce che arriva? Esatto. Allora, il disturbo in genere nasce, proprio come ho detto prima, con uno stato d'ansia generalizzato. Infatti si chiama disturbo d'ansia generalizzata. Ovviamente quello è l'inizio, l'inizio di un percorso. È come se fosse un campanello di allarme che se ascoltato, come poi eventualmente parleremo del come, si stoppa lì. Se invece non viene ascoltato, diventa sempre più importante, al punto tale che spesso questo tipo di situazione poi si enfatizza così tanto e cresce così tanto che di norma porta poi in ospedale. Perché la persona pensa proprio di avere un problema cardiaco. Quindi tutta la sintomatologia che ho appena detto arriva ad un punto che la persona davvero non respira. Cioè i sintomi diventano importanti e portano in ospedale. In ospedale poi ovviamente viene trattata con quello che è, annullando ovviamente con quelli che sono le indagini, la paura iniziale e facendo quello che serve per riportare la persona a una condizione di quiete con i farmaci che servono, eccetera, eccetera. E confermando che non era un attacco di cuore ma un attacco di panico. Ecco, forse diciamo che è anche più complesso poi riuscire a risolvere queste situazioni, perché appunto se non vengono ascoltati poi i sintomi si fa una gran fatica a riuscire a smettere di far provocare questi attacchi. Uno dei danni maggiori è proprio quello di non considerare questo tipo di disturbo un disturbo del quale prendersi cura. Quello di dire ce la faccio da sola, quello di dire passerà, quello di dire intanto è passato, quello di dire poi di norma se la persona condivide in famiglia con i propri cari questo tipo di disturbo, anche perché se poi arriva in ospedale è chiaro che lo deve oggettivare, difficilmente ha un supporto. Nel senso che l'attacco di panico, come tutte le manifestazioni che hanno a che fare con degli stati d'animo, che hanno a che fare con il proprio vivere, con la propria vita e con la propria condizione interiore, non si quantifica in un danno organico, non hai una gamba rotta, non hai la febbre, non hai un qualcosa che si oggettivi in un organo e quindi di norma viene consigliato a ma dai, ma in fondo cosa ti manca? Ecco, in questo tipo di affermazioni di norma la persona va sempre più giù, sempre più giù perché ovviamente non è considerata, si sente non compresa e ecco dove proprio si innesca il compito del gruppo. Certo. Si innesca nel, forse proprio lì, nel fatto che fuori, nell'ambito medico, nell'ambito familiare, di norma viene presa sotto gamba questa cosa e quindi la persona va sempre, scende sempre di più in autostima, no? e quindi questo va poi ad incrementare il disturbo. Può portare poi anche, diciamo, altri disturbi come depressione. Può anche sfociare, assolutamente sì, di norma può anche succedere questo. Quindi ecco, c'è un'altra cosa da segnalare dal mio punto di vista che è proprio la presa in carico oggettiva di questo. Spessissimo le persone che hanno anche un non riconoscimento nell'ambito delle relazioni, oppure che hanno cariche pubbliche o ruoli professionali piuttosto elevati e pubblici, di norma sono ostacolati proprio sia da soli ad ammetterselo, perché ricoprono cariche importanti, sia a condividerlo e sia anche a ricorrere a prenderne cura. Per il semplice fatto che è un po' nel ceto comune, è un po' come ammettere una debolezza. Non si tratta più di ammettere una patologia organica, ma una debolezza. Ecco, facendo anche una piccola considerazione, potrebbe essere questo... Una fragilità, anzi. Uno dei tanti problemi della società di oggi, quello di non riuscire più a ammettere le proprie debolezze. Esatto, esatto, perché tutto è focalizzato sull'essere, sull'apparenza e sull'essere performanti, che dover ammettere ovviamente di avere un attimo di fragilità, spesso crea un limite enorme proprio alla soluzione iniziale, perché se tutto questo viene preso in cura e in carico, inizialmente ha una soluzione molto più rapida che se poi si cronicizza. Abbiamo visto un po' gli effetti di quello che può provocare l'ansia, ma quali possono essere le cause iniziali? Cioè, è vero che possono essere tante, ma quelle che nel corso anche della tua esperienza sei più riuscito a recepire? Le cause iniziali, dal mio punto di vista, non sono iniziali, ma sono la conseguenza di una serie di adeguamenti e aggiustamenti che tutti noi facciamo proprio per rispondere ai canoni di luoghi comuni e di stili di vita che spesso ovviamente le relazioni, l'ambito professionale, la famiglia, gli affetti ci obbligano ad assumere e soprattutto proprio quello che è di danno è proprio enormemente questo continuo che possiamo aggiustare se stessi piuttosto a quello che viene richiesto da tutto ciò che ci circonda, piuttosto che mettere proprio in primo piano se stessi. Io e tutti noi abbiamo un'identità personale, abbiamo delle esigenze personali che di norma, guarda caso, sono quelle che siamo più portati a mettere in secondo, terzo, quarto, quinto piano piuttosto per cui secondo me è proprio l'identità personale che a un certo punto ti bussa la pote e ti dice ma quale vita stai vivendo? Quella di chi? La tua? Dov'è? Ecco, secondo me è la somma di tutta una serie di situazioni che ti portano a non vivere la tua vita. Io dico sempre, se sei nato pesce, non ti puoi arrampicare negli alberi. E con questa considerazione finale chiudiamo questa prima parte dove abbiamo visto le cause e gli effetti dell'ansia e gli attacchi di panico. Nel secondo spazio parleremo di come poter procedere poi per uscire da questo tunnel e appunto dai rimedi. Parleremo ovviamente sempre con Morena Giorgi. Adesso un po' di pubblicità e poi seconda parte di vivere. Rieccoci insieme per la seconda parte di vivere. Siamo tornati appunto quest'oggi a trovare Morena Giorgi per finire ciò che avevamo iniziato nelle scorse puntate cioè il discorso ansia e attacchi di panico. Nella prima parte di questa trasmissione abbiamo visto le cause e gli effetti. Adesso cercheremo di capire come uscire da questo tunnel. Quindi dopo che il paziente si è rivolto all'ospedale o comunque a dei professionisti come funziona il percorso poi di cura? Allora buongiorno a tutti di nuovo. Allora come funziona il percorso? Il percorso come ho già detto alcune volte funziona con innanzitutto l'individuazione e la voglia di uscirne. Quando io faccio il colloquio conoscitivo con la persona che si approccia a noi oltre all'ascolto ecco una delle cose fondamentali proprio in queste persone che arrivano è la possibilità di essere ascoltati e quindi la ricchezza dell'ascolto è il potersi raccontare. Alla fine del loro racconto la prima cosa che dico è allora noi possiamo offrire quello che poi andremo a capire ma tu vuoi uscire da questo percorso? Cioè tu vuoi star bene? Perché il voglio della persona, il voler risolvere, il voler proprio uscire da questo tunnel perché questo è un tunnel che diventa sempre più stretto e sempre più lungo e sempre più fitto e sempre più buio quindi l'assenso della persona. Gli dico che non è, non dipende da altri ma che dipende soltanto da quanto vorrà uscirne e quindi questo è il primo impatto. Il secondo è quello di ovviamente accertarsi che abbia anche, cioè che sia passata la fase iniziale alla quale secondo me deve ricorrere una persona dal punto di vista farmaceutico, farmacologico e anche professionista. Quindi di norma la persona che arriva da noi se non è proprio nel colloquio, se è in un momento in cui il suo stato di agitazione è elevatissimo e l'ansia è davvero qualcosa che limita enormemente anche la capacità dell'attenzione a quel punto viene il nostro consiglio è quello di ricorrere allo specialista, allo psichiatra, allo psicologo e comunque segnalare prima dal punto di vista proprio dell'approccio farmacologico anche il bisogno di ricollocare se stessi in uno stato d'animo in cui almeno io posso ascoltare. Dopodiché viene inserita all'interno del nostro gruppo e dove come ho già detto le altre volte la persona è libera anche all'inizio soltanto di ascoltare, di presentarsi o di non presentarsi, anche di venire lì come uditrice e capire intanto, dargli il tempo di capire dove è, che cosa succede, che cosa fanno le altre persone che già ci sono. Quindi di mettersi nella condizione di avere finalmente uno spazio libero personalmente esercitato soltanto dalla persona. Quindi metterla nella condizione di sentirsi finalmente non più condizionata da nessun tipo di situazione. E di norma lì viene fuori, viene fuori proprio... a volte lo fanno subito che si raccontano, quantomeno si presentano e evidenziano l'apice, la parte più importante del disagio e poi mano a mano diventano fiumi in piena. Diventano fiumi in piena e da lì io potrei raccontarle decine e decine di persone, descriverle anche la chiusura comportamentale, cioè anche l'atteggiamento e la postura, come si siedono all'inizio e come si siedono dopo un po' di tempo. Persone che non si tolgono il cappotto, non tolgono la borsa dalle spalle, che non allargano se stessi con nessun gesto e che poi piano piano invece riescono a liberare se stessi dagli orpelli sia estetici, sia oggettivi che soggettivi. E quindi ecco, l'ascolto gli permette finalmente... e la collocazione... fra l'altro noi abbiamo una regola interna tassativa che comporta l'allontanamento dal gruppo che è quello del segreto enorme di tutto quello che viene detto all'interno di quelle ore la dentro, non può essere riportato da nessuna parte, i nomi di nessun componente, ognuno sa che lì è in uno spazio suo, segreto, dove può fare, non fare, dire e non dire tutto quello che gli passa per la testa. Ecco, mi mi ha in mente mentre stava parlando anche magari se si è mai verificato un episodio, nel senso che un familiare sia venuto da voi a chiedervi aiuto per aver magari riconosciuto alcuni sintomi su marito, su figlio o proprio sulla sulla moglie, quindi magari che sia venuto da conto terzi. In questi casi come si può risolvere? risolvere. Allora, è successo e addirittura nel primo colloquio io comunque permetto alle persone di portare con sé se vogliono una persona, non è una persona di famiglia, è una persona, la persona con la quale anche recentemente ho fatto un colloquio dove una persona è venuta con un'amica e quindi questo è il primo colloquio. Il percorso là dentro invece se il familiare arriva e chiede partecipazione o la figlia, la sorella, la madre, noi abbiamo realtà infatti di la figlia in un gruppo, la madre è in un altro perché la presenza nella stessa realtà è chiaro che condizionerebbe sia l'una che l'altra. I racconti di entrambe, certo. Esatto, quindi è possibile, anzi spesso, cioè questa è una condizione ottimale perché se uno delle situazioni o degli elementi ansiogeni è proprio il comportamento, l'atteggiamento o l'affettività o la relazione con un familiare è chiaro che questa cosa viene fuori, ma è chiaro che non può essere nello stesso gruppo perché altrimenti si condizionano l'uno con l'altro. Ecco, cosa può fare la famiglia per in genere cercare di aiutare il soggetto interessato, supportarlo, non lo so, quali potrebbero essere i metodi per riuscire anche sotto livello familiare a aiutare la persona interessata? Lei tocca un tasto di fondamentale importanza perché proprio più le relazioni nel mio percorso di 20 anni, più le relazioni sono strette anche affettivamente, quindi è proprio in famiglia purtroppo che spesso o dalla famiglia o dalla coppia che spesso nascono i maggiori disagi. Quindi come una delle regole, un'altra delle regole tassative all'interno del gruppo è il non giudizio, questo dovrebbe proprio nascere dalla famiglia. E proprio come ho detto prima, invece, è proprio dal giudizio in famiglia che nascono i maggiori disagi, è proprio dalle etichette appiccicate nel partecipe, nel componente della famiglia che spesso nascono i maggiori disagi. Per cui io per esempio, io personalmente, noi l'abbiamo fatto, abbiamo consigliato a volte di portare anche il familiare o l'altro componente della coppia, di fare una seduta insieme, ovviamente non in gruppo, ma privata, per cercare proprio di coinvolgere anche la persona che magari viene più indicata come elemento di disturbo. Per cui, ecco, è proprio se si può coinvolgere nella conoscenza, quindi la condivisione va allargata anche alla famiglia, alle relazioni. Allora, in conclusione, lanciamo un messaggio anche a chi ci sta guardando, con un piccolo riassunto e poi ricordiamo anche dove può trovarvi in caso di necessità. Allora, riassumendo, magari no, mi permetto anche di aggiungere proprio che un'altra delle regole fondamentali che sono all'interno del gruppo, che tutto ciò che viene detto non può passare per un consiglio, ma parte sempre dalla frase, io ovviamente al tuo posto, nella tua stessa situazione, cioè mai dire ti consiglio di, perché nessuno di noi ha ovviamente il verbo in bocca per nessun tipo di situazione, soprattutto quella che conosci solo dall'esterno. Però, ecco, proprio il consiglio che mi sento di dare è proprio quello invece in questo caso alle relazioni, è quello del non giudizio, del invitare la famiglia o la coppia o i genitori proprio a dare la giusta collocazione a questo disturbo, che anche se non ha un'eziologia fisica, ha un'eziologia, ha un effetto poi che si ripercuote purtroppo nella qualità di vita che ha a che fare anche poi con l'aspetto fisico e con l'aspetto comportamentale. Per cui io credo che la conoscenza, il non giudizio e la presa in carico di un disturbo come un disturbo pari a quello organico è il passo più importante. Dopodiché da noi ci si avvicina, ovviamente come abbiamo già detto, perché abbiamo già consapevolezza di avere una situazione difficile e dal volersene fare carico, dal volerla risolvere. Ricordiamo anche i riferimenti nel caso in cui dovessero contattare. Allora, noi abbiamo un sito web, l'associazione, il gruppo di mutuo auto aiuto, si chiama Dumbo DAP, quindi Dumbo sta per la paura della Walt Disney, l'elefantone che ha paura del topolino, quindi il logo nasce da questa riflessione, DAP sta per disturbi, attacchi di panico. Abbiamo un sito web con una mail, con un numero telefonico al quale rivolgersi e gli incontri vengono fatti tutti i martedì dalle 18 alle 20 e 30 e oltre e previo colloquio, previo contatto e previo conoscenza di quello che è la persona prima di essere inserita. Io ti ringrazio innanzitutto per averci accettato anche da te e per aver poi, diciamo, per averci aiutato in queste due puntate a conoscere meglio questi disturbi. Noi ci rivediamo settimana prossima con una puntata di Vivere, apriremo un nuovissimo argomento.